bene buongiorno a tutti sentite dunque oggi sarà non abbiamo più molto tempo non so se riusciamo a finire tutto eventualmente lo completo poi io sarà una lezione interamente dedicata a un esercizio su quello che avete appena visto quindi JDBC, Pattern DAO eccetera semplicemente vogliamo realizzare un programma JavaFX che gestisca un elenco di corsi universitari ok e per fare questo ci basiamo su un database chiamato iscritti corsi che si può scaricare dal sito del corso forse nel sito del corso c'è scritto iscritti esame al posto di iscritti corsi comunque è sempre lui altrimenti lo trovate anche nella cartella DB che ho messo qui nel progetto base che è già su Github e nella stessa cartella è presente anche il diagramma entità relazioni di questo database andiamo a vederlo un attimo abbiamo tre semplici tabelle studenti modellati dalla tabella studente i corsi e in mezzo c'è la relazione la tabella per mappare la relazione molti a molti perché ovviamente uno studente può essere iscritto a più di un corso e viceversa un corso ovviamente a più studenti iscritti bene vediamo cosa chiede il programma ho provato a sintetizzare il testo eccoci qua il programma deve permettere all'utente di due parti abbastanza distinte la prima è analizzare i corsi sulla base del periodo didattico quindi deve permettere di elencare tutti i corsi dato un periodo didattico se io inserisco uno mi stamperà il programma mi dovrà stampare tutti i corsi di un determinato del periodo didattico uno e viceversa per il secondo periodo e poi mi deve stampare il numero di iscritti ai corsi di un determinato periodo didattico cioè se io scrivo uno il programma dovrebbe dirmi che per questo tal corso al primo semestre ci sono 25 iscritti per questo altro corso ci sono 40 iscritti e via dicendo la seconda parte invece deve permettere di analizzare un singolo corso quindi dato il codice di un corso il programma dovrebbe elencare tutti gli studenti ma dovrebbe anche permettere di elencare la divisione degli studenti iscritti in questo corso cioè in un corso potrebbero esserci x studenti di gestionale y studenti di meccatronica eccetera soprattutto per i corsi a scelta questo può capitare ok? quindi due parti distinte in cui per ogni parte c'è un punto un po' più facile che è il primo e un punto un po' più complesso con una query diciamo un po' più complicata ok? ma partiamo da zero io mi sono già importato il progettino e abbiamo due cose principali da fare di base da fare in tutti questi esercizi che utilizzano un DB il primo è importare il DB e il secondo è utilizzare la libreria il JDBC connector ok? allora io ho già scaricato entrambi eccoli qua vi faccio vedere voi siete abituati a utilizzare ID molti di voi hanno Windows per chi ha il Mac vi faccio vedere la mia configurazione sul mio Mac io ho installato MySQL qui mi sta verificando degli aggiornamenti che io non voglio verificare eccolo qua mi appare nelle preferenze di sistema ed è già running ok? quindi va bene e poi come client non utilizzo ID ma sul Mac mi trovo meglio con SQL Pro alla fine fanno lo stesso mestiere cambierà poco quindi io mi connetto al localhost e vado un po' come in ID ad aprire il DB il file SQL del DB che ho scaricato ok? eccolo qua open me lo carica qua dentro e dopodiché devo fare un run di tutte le query si vede un po' poco ma qui a destra faccio run all queries eccolo qua l'ha già importato ci sono le varie tabelle di cui posso vedere la struttura e il contenuto un po' come in ID ok? bene una volta che è importato boh posso chiudere il client e tornare qui in Eclipse creo subito una cartella lib nel progetto e dentro questa cartella vado ad incollarci il connector che ho scaricato questo jar qua faccio copia e lo vado a incollare nella cartella lib eccoci qua dopodiché devo aggiungerlo al build path affinché il progetto lo veda quindi build path add to build path ok? allora tipicamente poi negli esercizi di laboratorio anche all'esame questa libreria ve la diamo già inserita nel progetto di base però potrebbe capitare di no e quindi sapete bene ora come fare va bene partiamo dall'interfaccia grafica cerco di farla abbastanza velocemente per poi concentrarmi sul codice quindi vado ad aprire il mio file fxml con sim builder la struttura bene o male delle nostre interfacce grafiche è sempre la stessa abbiamo una text area al centro dove stampiamo i risultati eccola qui vado a liberarne il layout ok? e già subito imposto le sue proprietà ovviamente questo è un nodo che mi servirà poi utilizzare nel programma banalmente per scriverci sopra quindi devo dargli almeno un id chiamiamola txtresult ok? non mi serve definire nessun metodo per l'action in questo caso perché è un nodo dove semplicemente andrò solo a scrivere dopodichè sopra mi immagino due parti magari due hbox uno sopra l'altro dove ci sono i comandi per le due parti diverse che vi ho fatto vedere prima ok? quindi banalmente inserisco un vbox in alto che conterrà questi due hbox quindi al top inserisco un vbox libero il layout e dentro al vbox inserisco due hbox il primo e il secondo uno sotto l'altro anche qui libero il layout ok allora nel primo hbox andiamo a vedere cosa volevamo metterci se riusciamo ok l'utente dovrà inserire un periodo didattico quindi ci sarà banalmente un text field e poi mi immagino due bottoni il primo per eseguire la prima ricerca e il secondo ovviamente per la seconda quindi inserisco magari prima una label che mi dica a che cosa è relativo il text box che verrà dopo periodo dopo il periodo inserisco il text field sotto la label ovviamente me l'ha inserita nel posto sbagliato eccolo qua di fianco al text box due bottoni uno e due allora sistemiamo i vari nodi questo text field avrà sicuramente un id chiamiamolo txt periodo mentre questi bottoni avranno sicuramente un on action ma lo sistemiamo dopo prima cambiamo il testo qui vogliamo cercare i corsi cerca corsi come id gli diamo btn cerca corsi ok e qui si che ci vuole un on action perché è un bottone dobbiamo rispondere all'evento chiamiamolo do cerca corsi ok facciamo la stessa cosa per il secondo il secondo serve per calcolare delle statistiche sui corsi del primo semestre quindi scriviamo statistiche corsi ok come id gli diamo btn stati stat corsi è come un action do calcola stat corsi ad esempio ok allora do solo un po' di margine ai vari elementi diamo un po' di padding e magari un po' di margine tra i vari nodi quindi il margine a destra margine a destra no non ho dato il margine ma un'altra cosa scusate eccolo qua e margine a destra ok partiamo da questa prima parte poi se abbiamo tempo aggiungiamo poi la seconda così partiamo col codice allora come al solito mi vado a prendere lo scheletro del controller view show sample controller e me lo copio ok e posso adesso a questo punto tornare indietro al mio eclipse vado a incollare lo scheletro nel controller ok per sicurezza mi riapro anche dentro ad eclipse il file fxml così lui lo carica come vedete non c'è forse perché non l'ho salvato lo salvo torno di qua eccolo qua ok benissimo l'ultima cosa noiosissima che dobbiamo fare è cambiare il main con le nostre solite cose quindi come al solito mi devo far dare mi creo un oggetto fxml loader ok e poi utilizzo l'oggetto sia per caricare la scena diciamo togliamo queste dimensioni predefinite e lo uso anche prima di visualizzare la scena per impostare il modello per il controller perché ovviamente abbiamo imparato il pattern mvc continuiamo ad utilizzarlo quindi sicuramente non l'ho ancora creato ma ce l'avrò un model più che model chiamiamolo gestore corsi ok è sempre un model ma lo chiamiamo con un nome più indicativo a questo punto mi faccio dare il controller che è di tipo gestori corsi controller controller me lo faccio dare dal loader e ovviamente devo importare la classe di cui ho sbagliato il nome gestore ok e su quel controller farò il mio solito set model che anche qui non ho ancora creato ok allora facciamo subito un package per il model it punto polito punto tdp punto corsi punto model e all'interno ci creiamo la nostra classe gestore corsi questo è il nostro model andiamo di qua nel main ora la possiamo importare ovviamente manca ancora il set model nel controller quindi apro il controller mi definisco un attributo model andiamo a importare la classe e mi creo il metodo public void set model gestori corsi model in cui vado a settare il modello ok dovrebbe essere chiaro questo punto noiosissimo ma purtroppo dobbiamo farlo ok dimmi al main si mi da ancora un problema ah non l'ho salvato giusto grazie eccoci qua noiosissimo ripeto ad esempio all'esame questa parte ce l'avete già nel progetto base ovviamente perché altrimenti sarebbe una perdita di tempo inutile ok proviamo a lanciare il main vediamo se si apre almeno l'interfaccia grafica forse o forse no si ok abbiamo questi due bottoni e ora semplicemente quello che dobbiamo fare dobbiamo associare la logica a questi due bottoni partiamo dal più semplice che cerca corsi non so cosa sia successo perché sia verde comunque non importa non facciamoci troppe domande va bene allora qual è il mio modo tipicamente di agire in questo caso sicuramente avremo delle query da fare io piuttosto che fare la query direttamente in java e poi lanciare il programma tutte le volte eccetera che è molto scomodo tipicamente mi immagino quale sia la query la vado a provare sul client che utilizzo su id nella maggior parte dei casi quando funziona la prendo e la copio di là ok quindi in questo caso se noi apriamo il diagramma entità relazioni allora io voglio che dato un periodo voglio avere tutti i corsi di quel periodo innanzitutto il periodo che cos'è e questo pd qua è un intero ok quindi quante tabelle banalmente mi serviranno in questa query una perché il parametro è già nella tabella corso io voglio i corsi quindi già non devo fare nessuna join e già questo è un bel vantaggio apro 5 pro che ovviamente si è disconnesso seleziono il database che è iscritti corsi e vado nella tab query allora posso dire che io voglio select ad esempio asterisco from corso c where cosa scrivo c.pd ad esempio uguale a 1 provo a lanciarla ok non riesco a fare lo zoom qua sotto però vedete che ci sono una serie di corsi al primo al primo periodo didattico quindi una query banalissima va bene ok adesso che ho in mente la query posso tornare su eclipse poi eventualmente vengo a ricopiarmela e da questo punto in avanti io tipicamente utilizzo un approccio top down cioè parto dal punto più esterno che è il controller scrivo quello che secondo me serve e ogni volta vado a implementare i metodi che ho immaginato ok mi spiego meglio siamo in cerca corsi giusto sicuramente la prima cosa da fare sarà recuperare il periodo didattico che l'utente ha inserito questo periodo abbiamo visto che è un intero uno o due int periodo uguale integer punto parse int di txt periodo punto get text ok ovviamente dobbiamo aggiungere qualche controllo perché altrimenti se l'utente scrive qualcosa di sbagliato scatta l'eccezione ok e il non sufficiente l'esame quindi dovrò sicuramente inserirlo in un try catch number format exception ok se l'utente scrive per sbaglio una stringa o un carattere viene generata questa eccezione io la rilancio anzi più che rilanciarla in questo caso viene bene stampare un messaggio di errore sul txt result append text devi inserire un periodo uno o due ok semplicemente poi faccio una retola ed esco questo è un primo controllo ne possiamo aggiungere facilmente un altro perché vogliamo che il periodo sia o uno o due e quindi posso controllare if periodo diverso da uno and periodo diverso da due e non quattro ma due rifaccio la stessa cosa ristampo un messaggio di errore ed esco ovviamente qui mi dà un errore perché questo periodo lo devo definire fuori dal try catch affinché venga visto anche sotto altrimenti viene visto solo nel try catch va bene semplice controllo dell'input adesso viene il bello e qui vi faccio vedere il mio approccio top down sicuramente chi me lo dovrà dire quali sono i corsi il modello per il pattern model view controller io mi immagino che il modello mi restituisca una lista di corsi eh e qui c'è l'altro concetto mi restituisce cosa una lista di corso corsi uguale this.model punto mi immagino un metodo get corsi by periodo un mix di italiano e inglese terribile ma va bene in cui passo il parametro periodo vedete che ci sono degli errori io mi sono immaginato un metodo ma questo metodo non c'è ancora andrò a definirlo adesso e poi mi sono immaginato una classe corso e questo è il primo concetto nuovo che forse avete già visto l'ora prima immagino con la classe parola che dati si scambiano il db e il nostro programma java beh se sono tabelle di un'unica colonna con delle stringhe saranno delle stringhe ma se sono tabelle più complicate devo avere un contenitore di dati che mi modelli che cosa c'è nel db ok questo pattern si chiama orm object relational mapping lo vedremo più in dettaglio più avanti però vi anticipo che per ogni tabella nel db per quasi tutte le tabelle nel db ci deve essere la corrispondente classe in java che si chiama allo stesso modo che ha i campi che si chiamano allo stesso modo definiti come privati e con tutti i get resetter questo è l'orm non tutte le tabelle perché ad esempio le tabelle che ci permettono di salvare le relazioni molti a molti come la tabella iscrizione questa no questa no non va modellata noi quello che ci interessa sono gli studenti e i corsi ok quindi sicuramente in questo programma avremmo una classe corso e una classe studente va bene approccio top down vado ad implementare quello che ho immaginato partiamo dalla classe corso ok è una classe che modella un'entità quindi diciamo che fa parte del mio modello la inserisco nel package model new class corso allora ci sono delle regole ben precise come vi ho detto il nome deve essere uguale a quello della tabella dopodiché avremo i in questo caso quattro campi di tipo ovviamente coerente codins che è una stringa se di qua è var char di là è una stringa poi abbiamo un int crediti abbiamo uno string nome e abbiamo un int pd ok bene dobbiamo generare tutti i getter e i setter ve lo faccio fare da eclipse eccoli qua poi dobbiamo avere un costruttore con tutti i campi anche qui me lo faccio fare da eclipse poi possiamo avere opzionalmente un two string e in questo caso ci servirà perché questi corsi li vogliamo stampare sempre eclipse mi fa tutto two string vabbè su tutti i campi solo su alcuni campi li sta a voi come volete stampare ogni corso e poi invece dobbiamo avere abbiamo fatto l'altra volta hash code ed equals insieme qui è abbastanza facile quando si tratta di db capire su che cosa fare l'equals e su che cosa fare le hash code su che cosa sulla chiave primaria perché ovviamente due elementi con due chiavi primarie uguali non possono entrare nel db e quindi quindi hash code ed equals in cui utilizzo code ins che è la chiave primaria nel db oh benissimo questo tipo di classi si chiama java bin ok è un contenitore ha proprio un nome una classe strutturata in questo modo si chiama java bin ed è l'elemento fondamentale del pattern ORM che dice sostanzialmente che ad ogni tabella importante del db corrisponde una classe java ok torno al mio controller mi manca questo metodo va bene eclipse mi suggerisce già di crearlo lo creo lo creo nel model eccolo qua ovviamente devo importare la lista qui non è solo corsi ma è model non so perché se lo sia perso no questo no import list ok e qui viene l'altro pattern che utilizziamo cioè faccio le operazioni sul db direttamente qua no cerchiamo di separare ancora le cose avrò un altro livello di classi che mi permette di accedere al db queste classi sono dette comunemente dao delle classi dao anche qui la regola è per ogni entità nel db quindi per ogni tabella ho il mio dao ben specifico quindi in questo caso avrò sicuramente un corso dao e uno studente dao va bene quindi mi immagino di avere un corso dao una classe corso dao che posso istanziare e a cui possa chiedere direttamente le mie informazioni che voglio estrarre dal db allora partiamo dal definire questa classe una classe relativa al db mi crea un nuovo package hit.polito.tdp.corsi.db ad esempio qua dentro metterò tutte le classi che mi servono per il db non è obbligatoria questa divisione in package è solo un modo intuitivo di organizzare il codice qua dentro vado a crearmi la mia classe corso dao va bene? allora qui ho due ho due modi di operare e questo dilemma ci sarà per tutti gli esercizi che faremo di qui in avanti non so se l'avete già visto su nell'ora precedente allora io potrei farmi dare tutti i corsi dal db me li prendo tutti e poi internamente li vado a filtrare secondo il periodo didattico che ho inserito ok? questa è la prima opzione prendo tutto e poi li filtro internamente la seconda opzione invece ovviamente è filtrare direttamente con la query come la query che abbiamo fatto prima mi sono spiegato? vantaggi, svantaggi qual è la soluzione migliore? beh dipende ok? è impossibile rispondere così bisogna considerare vari fattori cioè ad esempio quanti dati ci sono nel db quanto è complessa la query tutto quello che riesco a fare con la query ovviamente poi non lo devo più fare in java e quindi riduco le mie probabilità di fare errori nel codice ok? viceversa prendere tutto se il database è molto grosso eh magari ci impiega molto tempo mentre in java l'elaborazione è più veloce perché una volta che li ho dentro quindi dipende un po' dalla situazione bisogna valutare vari fattori tipicamente beh no diciamo che per gli esercizi più complessi anche quelli d'esame può fare la differenza cioè fare tutto con una query o fare tutto in java può cambiare nel senso che magari con un metodo ci impiega un quarto d'ora mentre con l'altro magari ci impiega cinque minuti quindi dipende allora io vi faccio vedere entrambi se vogliamo prendere tutto e poi filtrare in java il dao posso chiedere al dao la mia lista di tutti i corsi ad esempio quindi posso fare dao punto mi immagino un metodo list all dammi tutti i corsi ok? dopodiché su questi corsi farò il filtraggio quindi for corso c in corsi mi chiedo if c punto get periodo didattico è uguale uguale al periodo che ha inserito l'utente allora ovviamente dovrò definirmi una lista di supporto scusate una lista chiamiamola result devo importarla se il periodo didattico è uguale vado ad aggiungere alla mia lista result il corso c e poi ritorno result ok? vedete che il filtraggio non lo metto in una where della query ma lo faccio qua dentro questa lista all che ora vado a creare mi restituirà a tutti i corsi allora io me lo sono scritto ok anche qui il template diciamo per queste chiamate del DAO è praticamente sempre lo stesso abbiamo la string sql che in questo caso sarà banalmente una select asterisco from corsi non c'è la where li voglio tutti in questo caso poi avremo una lista di corsi che è il mio risultato in cui andrò ad aggiungere tutti i corsi che estrarrò dal db e poi ho il mio bel try catch ok in cui andrò a fare le mie operazioni la prima cosa è prendere una connessione ok questa connessione la posso aprire direttamente qui ma forse anche qui avete visto prima nella lezione precedente meglio farsi una classe a parte per separare i concetti quindi immagino di avere una classe connect db che mi nasconde i dettagli per recuperare una connessione quindi nel package db mi creo questa classe connect db che magari andiamo a fare dopo quindi mi prendo la connessione più piano ok scusate ma abbiamo iniziato tardi però avete ragione devo andare più piano quindi domande su questo vi consiglio però di non copiare forse è più importante seguire e poi provare a rifarlo questo è il mio parere poi ognuno fa come vuole però quindi prendo la connessione e poi dovrò crearmi uno statement giusto? avete visto gli statement? avete visto anche i prepare statement? ok visto che sono più potenti e ci evitano vari errori lavoro con un prepare statement anche se in questo caso è abbastanza superfluo perché la query non avendo parametri non si presta a questi problemi di sicurezza in ogni caso se abbiamo un template fisso è meglio per tutti quindi questo statement me lo faccio dare dalla connessione che non ho importato importo importo anche il prepare statement ok con punto get no scusate non è una get ma è un prepare statement a cui passo la mia query che ho definito sopra sql ok non ho da impostare nessun parametro posso richiedere direttamente il risultato risultato che mi viene restituito in un result set rs lo statement punto execute query importo result set ok adesso sicuramente questa query potenzialmente mi restituisce più di un risultato e quindi utilizzo un ciclo while per scorrere questo result set while res punto next l'ho chiamato rs finché c'è un nuovo corso in questo caso cosa faccio? beh mi prendo questo corso abbiamo visto avete visto che dal result set posso estrarre i vari campi con le varie get e io uso queste varie get all'interno del costruttore di un corso banalmente faccio corso c uguale new corso e all'interno del costruttore mi vado a prendere tutte le mie varie get i miei vari campi ovviamente devo andare in ordine secondo come ho definito il costruttore di corso quindi come primo campo dovrò passargli il codins che è una stringa res punto rs scusate get string e tra apici il nome della colonna nel db ok virgola non mi ricordo memoria l'ordine quindi vado a rivedermelo crediti nome pd quindi abbiamo i crediti sono un intero magari vado a capo rs punto get int crediti virgola rs punto get string nome virgola rs punto get int pd è chiaro prendo i campi dal result set e li uso per costruirmi il mio corso che mappa la riga del db nella tabella corso e questo corso poi di questo corso ne faccio cosa voglio in questo caso lo aggiungo alla mia lista result ok alla fine della fiera return result manca qualcosa chiudere la connessione alla fine sempre ricordarsi di chiudere la connessione altrimenti dopo un po' di connessione aperte tutto si pianta allora posso qua c'è un errore è corso ok il pattern però è sempre questo apro la connessione mi creo il prepare statement eventualmente qui imposto i parametri chiedo il result set scorro il result set prendo i risultati e poi gli ritorno allora mi manca la classe per ottenere la connessione va bene l'avevo già creata semplicemente questa classe fa quello che deve fare io provo a copiarla per scusate per fare un po' più in fretta altrimenti non ci arriviamo alla fine se il professore ha fatto commit no non l'ha fatto non l'ha fatto allora la posso prendere da qui cambio solo ok semplicemente questa classe ha un metodo statico che ritorna una connessione con la get connection al chiamante ok con questa riga di codice qui e con questa return la stringa url e jdbc url è costruita come avete visto anche qui tipicamente negli esercizi che vi diamo questa stringa ce l'avete già quindi non dovete costruirla da zero c'è il nome del server in questo caso localhost il nome del db lo username e eventualmente la password va bene questa classe ce l'avete già di solito non dovete riscriverla ora le prime volte ve l'abbiamo fatta vedere passo passo ma domande ok si si su connect db la stringa ovviamente qui dovete mettere le vostre credenziali se avete la password se avete una password diversa dipende dal vostro pc ad esempio nei pc di laboratorio mi pare che non ci sia la password e quindi all'esame non dovrete mettere questa questa end password non sono sicuro al 100% ma mi sembra di sì va bene vedete che sono partito dal controller e sono sceso fino ai livelli più bassi implementando tutto quello che mi serviva se posso tornare al controller ora dovrei avere tutto importo le classi la classe corso partendo di qua sono riuscito a implementare tutto ora ho la mia lista di corsi la devo semplicemente appendere diciamo alla mia txtresult quindi faccio un for corso c in corsi txtresult punto append il mio corso di cui ho fatto la two string prima e più magari uno slash n per andare a capo proviamolo proviamolo vediamo se siamo fortunati vado sul main ecco qua proviamo col periodo didattico uno direi che non siamo fortunati c'è un errore va bene così mi viene anche lo spunto di dirvi che quando vedete un sql syntax tipicamente avete fatto un errore nella query iscritti corsi punto corsi non esiste ok quindi vado nel mio dao mi dice che questa tabella non esiste vediamo se è vero forse si chiama corso penso di sì no corso esatto quindi avevo sbagliato la query cambio riprovo eccoli qua tutti i corsi del primo periodo didattico domande purtroppo siamo molto indietro rispetto a quello che volevo fare quindi penso non ve lo completerò io ma lo riprendiamo una volta successiva perché altrimenti non capite non capite il processo domande su questo lo so che sono andato veloce me ne scuso se vogliamo ricapitolare nel mio controller ho il mio controllo dell'input chiedo chiedo al model i corsi per il pattern MWC ma il model non mi risponde direttamente ma utilizza un DAO ah giusto possiamo vedere ancora in questi ultimi minuti la soluzione 2 questa era la soluzione 1 cioè mi faccio dare tutto e poi filtro all'interno di java ora la commento un attimo e vediamo la soluzione 2 facciamo fare tutto al db vedrete come il codice si snellirà molto perché io potrò fare direttamente return dao punto mi immagino un list corsi by pd in cui passo il mio periodo vedete una riga di codice rispetto alle 5 o 6 di prima su vasta scala può fare la differenza in programmi più complicati devo ovviamente crearmi questo metodo nel DAO eccolo qui allora come vi ho detto il il template per fare le query è quasi sempre lo stesso quindi io mi copio il metodo precedente lo incollo in questo e lo vado a modificare secondo le mie esigenze in particolare la query where pd uguale punto interrogativo ok perché punto interrogativo perché non so a priori il periodo lo dovrò recuperare e poi inserire dinamicamente nella query a seconda di quello che ha scritto l'utente ok come faccio semplicemente il prepare statement mi permette di inserire questi parametri st punto questo oggetto ha vari metodi set e io devo utilizzare quello giusto in questo caso pd è un numero quindi io dico set int devo specificargli l'indice del parametro che cos'è questo indice e la posizione diciamo del punto interrogativo in questo caso ho solo un punto interrogativo solo un parametro che voglio inserire quindi questo indice è uno per forza avessi più punti interrogativi nella query ad esempio che so and nome uguale punto interrogativo per inserire il periodo didattico utilizzerò uno per inserire il parametro nome utilizzerò set string di due ok è chiaro farei st punto set string alla posizione due che corrisponde a questo punto interrogativo inserirò il mio nome che qui non ho quindi non lo faccio però era per farvi capire che cos'è questo indice quindi cancello e poi ovviamente devo dire il mio periodo devo inserire il mio periodo basta tutto lì questi erano i due cambiamenti ho aggiunto questa where che prende il posto di tutto questo codice qua ok ovviamente qui è chiaro che è meglio questa soluzione in altri casi è meno chiara questa differenza domande proviamo solo a lanciarlo vedere che tutto funziona provo con il secondo periodo e questi sono i corsi del secondo periodo che già mi arrivano direttamente dal db va bene dove qua faccio subito pull quindi potete trovarlo anche su cioè pull push scusate lo trovate anche su github ovviamente ok grazie dell'attenzione alla prossima